La ringrazio, deputata Morane. Allora, a questo punto pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di correzione di forma avanzata dalla relatrice per la maggioranza. Dunque, dichiaro aperta la votazione. Marotta, Casellato, Chiarelli, Gigli, Allora, chi altro? Zardini Sì Allora, c'è la deputata Venitelli che ha un problema con la tessera Prego, deputata Saffretti Andiamo se riesce a votare, prego Bene, dichiaro chiusa la votazione La Camera approva per 270 voti di differenza Allora, continuiamo. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende altresì autorizzata al coordinamento formale del testo approvato Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge numero 2798a Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi Nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività educativa della pena Dichiaro aperta la votazione Montroni Ermini Romano Toninelli Invernizzi Frusone Grazie Grazie Grazie